E' ricominciata la stagione della Green Volley a Tripalda, la società cara alla famiglia Matarazzo si è messa all'opera per una nuova annata dove le rosso-blusabatine vogliono essere assolutamente protagoniste in tutte le categorie. S3, Under-12, Under-14, Under-16, Under-18 e Serie D. Anche quest'anno non si rinuncia a nessun torneo proprio per continuare il progetto di crescita del club ma soprattutto la valorizzazione dei tanti giovani atleti che dalle giovanili sono passate nel corso dell'annate in prima squadra. Come del resto è accaduto in tutti gli ultimi tornei una stagione quella passata importantissima dove la squadra è riuscita a trovare tre grandi vittorie, quella del campionato di Serie D, quella della Coppa Campania e quella della Supercoppa Campania senza dimenticare i successi ottenuti nel settore giovanile dimostrando di essere tra le migliori realtà di un territorio in cui il volley è in costante crescita. Brillando oltremodo oltre che con la prima squadra anche con l'Under-13. La Green Volley nelmeno nel campionato 2023-2024 vuole svestire i panni da protagonista.